Bentornati in studio, do il benvenuto a padre Romeo Mvuli, che arriva dal Congo Brazzaville. Benvenuto padre Romeo, grazie per essere qui quest'oggi. Perché? Perché lei è nato il 23 settembre, è devoto di padre Pio e ha costruito un pozzo dedicato, intitolato a padre Pio, proprio in Congo Brazzaville. Ci racconti? Io mi chiamo, io vi ringrazio innanzitutto per avermi dato questa opportunità. Io sono nato il 23 settembre 1986 in Congo Brazzaville, in un villaggio, nella macchina di un prete. Poi il prete, quel prete mi ha dato il suo nome. Mano a mano sono diventato anche prete. Allora, per dire qualcosa, il padre Pio è nato al cielo, la nascita del cielo di padre Pio è stata nel 1968. Esatto. Però se possiamo cambiare la cifra, l'ultima cifra, vediamo che sarà 86, solo un gioco. Certo. E poi, avendo la devozione del padre Pio, io ho fatto costruire con l'aiuto degli amici italiani un pozzo di 60 metri in Congo Brazzaville, nel villaggio. Abbiamo anche delle foto che pregherei la regia di mandare in onda. Ecco, le stiamo vedendo appunto proprio in questo istante, il giorno in cui è stato inaugurato e benedetto questo pozzo. Eccole qua. È certo. E la sua devozione, come ha conosciuto padre Pio? Io ho conosciuto padre Pio tramite la TV, perché ho studiato a Roma qualche anno fa in seminario, nel collegio urbano. E lì, seguendo la TV, una volta ho seguito il documentario in Congo, non sapevo che la mia data di nascita coincideva con la data della nascita al cielo di padre Pio. e ascoltando e vedendo questo documentario mi ha colpito tanto. E mi sono detto che è un santo grande da seguire e da imitare. Torniamo a queste belle foto che vediamo. Appunto, lei, grazie agli amici italiani, diceva padre Romeo è riuscito a costruire questo pozzo in Congo Brazzaville. In quale punto esatto, in quale villaggio? Il villaggio si chiama Comono e la parrocchia si chiama Cristo Re, Cristo Roi in francese. Siamo qui almeno a 500 chilometri dalla capitale Brazzaville. Ecco, e quindi specifichiamo e sottolineiamo anche l'importanza di avere un pozzo in un villaggio. Quindi, ecco, per avere l'acqua a portata di mano, perché in Africa per prendere l'acqua bisogna a volte anche percorrere tanti e tanti chilometri sotto al sole. Quindi è una bella opportunità questa del pozzo. Mi sono reso conto che in quel villaggio non c'era l'acqua potabile. La gente beveva l'acqua che era veramente sporca e non ero contento di vedere la gente così bere quell'acqua, perché sappiamo che l'acqua è la vita e bevendo un'acqua sporca provoca alcune malattie. Certo. Allora mi sono impegnato con tutto il cuore. Era quasi impossibile, però mi sono impegnato a costruire un pozzo così, a fare costruire un pozzo così. Soprattutto dedicato e intitolato a Padre Pio. Lei in questi giorni, Padre Romeo, si trova a San Giovanni Rotondo, presta il suo servizio alle confessioni, quindi nel santuario di Padre Pio. Anche questa è una bella esperienza. E lei si trova da otto anni, circa otto anni, sacerdote, e si trova all'Oppiano, vicino a Firenze, quindi è sacerdote lì. Com'è questa esperienza all'Oppiano, dove ci sono i focolarini? Sì, sì, sì. All'Oppiano sono arrivato il 23 settembre anche. Ecco, quindi proprio delle dioincidenze. Sì, sì, il 23 settembre 2021. Ho vissuto un momento eccesso all'Oppiano, sotto la spiritualità di Chiara Lubic, che è una spiritualità che fa promuovere l'amore reciproco e la spiritualità dell'unità tra i sacerdoti. Dunque, siamo stati, questo anno, siamo stati 14 sacerdoti e abbiamo vissuto sotto l'amore reciproco anche la spiritualità dell'unità. E penso che come sacerdote l'esperienza vissuta lì a l'Oppiano mi aiuterà. E ha cambiato il mio modo di vedere questa via e questa vita del sacerdote, dei sacerdoti. Allora, Padre Romeo, le auguriamo davvero un buon cammino pastorale e sacerdotale. Intanto anche in queste settimane continuerà ad estare qui a San Giovanni Rotondo a prestare il suo servizio presso il santuario di Padre Pio. È molto devoto del Santo di Pietrelcina. E ricordiamo, magari, appunto, a chi si fosse sintonizzato solo in questo istante, che Padre Romeo non solo è nato il 23 settembre, ma anche intitolato e dedicato un pozzo in Congo Brazzaville, il suo paese, intitolato al Santo di Pietrelcina. Ecco, guardate che bella questa immagine. Allora, grazie per essere stato con noi. Buon cammino e buona giornata. Noi intanto ci fermiamo ancora qualche istante, andiamo in pubblicità e poi torneremo ancora insieme con i nostri ospiti.